Ed eccoci, siamo arrivati al momento della cerimonia che dà il benvenuto alla 43esima edizione della Coppa America, l'ottava in terra argentina, l'ultima nell'87, nelle precedenti 7 edizioni l'Argentina ha vinto 5 volte con Messi, è la grande favorita. Il pallone delizioso per Alaviezi che parta ancora in velocità, si accentra Alaviezi, palla dentro, Messi con il destro, sfrugge il pallone, Cappiasso, esterno della rete, palla bassa sul primo pallone, il colpo di tacco, la palla è in rete, la Bolivia in contagio, un gol fantastico di tacco. Qui Romero non ha responsabilità, l'errore clamorosa di Paneca. Palla verticale per Marcello, posizione regolare, Marcello davanti a Romero, Marcello, Romero gli sporca il pallone, non è finita, ancora Marcello, sfida Romero, che palla in due tempi, clamorosa palla a gol, doppia per la Bolivia con Marcello Marti. Palla in area di rigore, al pallone, rete, un taggola, ha segnato a quello. Con il colpo al volo, in questo caso di, senza guardare, di collo pieno di Aguero, un grandissimo gol. Onore per Messi, attenzione a Tevez, l'apertura per Aguero, ancora Aguero, in area di rigore, Aguero con l'esterno, la pallone del portiere e poi di Maria.